bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e ragazzi porca miseria mi sono assentato questo pomeriggio 17 maggio per tre orette dalle 16 più o meno quando abbiamo terminato la live alle 19 30 che ho ricominciato la nuova live però questi di epic games hanno avuto il coraggio di mettere un evento da 50.000 v bucks come primo premio 50.000 v bucks non so se vi rendo l'idea la nuova modalità a tempo limitato si chiama modalità a tempo duello in solitaria e leggendo ragazzi nelle notizie ci dice volete dare prova del vostro valore in battaglia e caspita come no e allora affrontate questa modalità in poche parole ragazzi ci dicono che il gameplay rimane invariato quindi avremo sempre gli oggetti avremo sempre gli airdrop i chest gli altri però ci dice verrete invece spronati a sfidare altri concorrenti per scoprire chi di voi sarà l'ultimo a restare in piedi questi di fortnite ragazzi il team di fortnite aggiornerà quotidianamente per più volte al giorno la classifica per vedere appunto chi è un chi sono i giocatori più forti di fortnite e ragazzi ci sono dei premi sugosi primo posto 50.000 v bucks secchi dal secondo al quarto posto 25.000 v bucks dal quinto al cinquantesimo posto 13.500 v bucks e dal 51esimo al centesimo posto abbiamo 7500 v bucks ovviamente ragazzi qua in descrizione vi linkerò il regolamento completo in modo che tutti voi possiate dargli una bella occhiata ragazzi regaleremo dicono uno spray esclusivo a tutti i giocatori che avranno fatto almeno 50 partite ragazzi quindi mi raccomando giocate a questa modalità fate 50 partite e avrete uno spray unico beh ragazzi vi ricordo che questa modalità terminerà il 21 maggio quindi quattro giorni per giocare alle ore 4 da loro dovrebbe essere indicativamente verso le 13 da noi beh ragazzi questo era tutto quello che dovevate sapere vi ricordo un bel like se vi è piaciuto questo video iscrivetevi al canale per rimanere sempre aggiornati su tutte le notizie di fortnite e di fortnite android noi ci vediamo in live ciao 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 ciao